3, 2, 1, live Ciao a tutti, bentornati sul canale della Trafolla Academy come ogni mercoledì siamo in compagnia del nostro micologo di fiducia Sergio Mustica Ciao Sergio Ciao Davide, buonasera, buonasera a tutti Allora, prima di partire come sempre i ringraziamenti di rito a tutti i Patreon della Trafolla Academy che ci sostengono tramite la piattaforma Patreon e chi ci sostiene durante le dirette cliccando sul dollarino là sotto ormai ci mancano 5 iscritti sul canale per arrivare all'importante traguardo dei 5.000 abbiamo fatto 5.000 iscritti in meno di due anni, siamo stati bravissimi, ottimo sono molto contento intanto è arrivata Asia, ciao Asia, Francesco ciao Francesco Cicare, ciao Dario Caricola, buonasera, buonasera anche a te allora stasera diretta un po' speciale abbiamo pensato, visto che l'anno scorso abbiamo fatto tutta una serie di monografiche abbiamo visto il ciclo vitale del tartufo abbiamo ricominciato l'anno facendo il ripasso abbiamo pensato invece di dedicare il tempo di questa diretta alle vostre domande quindi non abbiamo un argomento specifico ma partiremo un po' facendo una visita simulata nel boscolo virtuale l'ho chiamata nel senso, devo fare un'uscita col cane e inizio a fare tutta una serie di ragionamenti a pormi delle domande che anziché a cui andrò a rispondere le girerò a Sergio quindi questo sarà l'inizio del video e nel frattempo inizia se avete domande particolari rispetto agli argomenti di cui abbiamo parlato in precedenza relativi alla natura del tartufo ai territori dove avete trovato iniziate a scriverle che poi le leggerò e andremo a rispondere insieme a Sergio allora Sergio, sono a casa prima cosa che faccio prima di uscire guardo il calendario e cerco di capire quali tartufi sono aperti nella mia regione ad esempio qui e ora abbiamo finito col trend vabbè a parte che qui da me non si può uscire perché c'è la peste suina ma facciamo finta di poter di poter uscire guardo il calendario del Piemonte volevo eccolo qua abbiamo sicuramente fin dal 15 dicembre al 15 marzo il Tuber Moscato che potrei andare a cercare è aperto il Brumale sempre dal 15 dicembre al 15 marzo e dal 15 gennaio al 30 di aprile l'ultimo che andrà poi a chiudere abbiamo il Tuber Borghi i bitadini il bianchetto che poi ci andrà a accompagnare almeno qua in Piemonte fino alla chiusura che poi che è maggio in Piemonte per poi riaprire a giugno con l'estivo quando ci sarà aperto praticamente solo quello quindi Sergio abbiamo questi tre tipi di tartufi se voglio farmi un'idea ci saranno non ci saranno devo andare a guardare delle previsioni anzi non delle previsioni medie degli storici meteo che possono aiutarmi nelle zone in cui voglio uscire Asia dice che mi sente malissimo fatemi sapere anche voi l'audio come va se ci sono problemi provo a correggere qualcosa ma è il solito di sempre quindi è stato un momento in cui frizzavi un pochino e c'era stato uno sfasamento voce voce video mi sembra rientrare allora la rete probabilmente non è aspettate un attimo regola automaticamente il volume del microfono vediamo un po' così va meglio? sì sì ma adesso sei sei rientrato allora è stata era un problema di rete non di microfono allora Sergio sì allora la risposta è sì chiaramente come già abbiamo detto in altre dirette il tartufo è un fungo è un fungo ipogeo come tutti quanti i funghi ha un ciclo vegetativo un ciclo biologico in cui si accresce e poi si manifesta fino ad arrivare al punto di maturazione allora chiaramente il il tartufo non è che si genera in in un giorno due giorni come come si potrebbe pensare o come erroneamente uno potrebbe supporre dato che un fungo in realtà la la carpocenesi quindi la la ceneri la ceneri dei dei carpofori degli ascocarpi che sono appunto i i corpi fruttiferi del fungo ipogeo che sono i tartufi si vengono a formare all'incirca cinque sei mesi prima quindi se per dire adesso che è il 2 febbraio voglio andare in cerca i tuberborchi devo andare a vedere andarmi a ricordare le precipitazioni che sono state fatte all'incirca nei mesi che vanno da ottobre novembre settembre ottobre novembre diciamo quei mesi lì quindi diciamo che bisogna vedere insomma come è stata la stagione precedente quindi andando a parlare di tempistiche cinque sei mesi prima e poi se ci sono state le condizioni meteorologiche di microclima stagionali e le piogge sono state sufficienti per poter far accrescere il tartufo quindi una carpocenesi buona può essere comunque eseguita da un periodo siccitoso o un periodo di scusate un periodo di anomalia meteo che può compromettere comunque raccolto quindi ci sono vari tasselli che si devono susseguire e la mancanza o comunque sia l'aberrazione di uno di questi tasselli può compromettere più o meno irreversibilmente l'annata l'annata fungina l'annata tartuficola va bene quindi ho preso il mio calendario sono andato indietro di 5-6 mesi e ho guardato la piovosità nella regione che stavo cercando quindi completa siccità mi viene da dire se esco sarà dura se ci sono state delle buone piogge da lì in avanti è probabile che il mio raccolto sia assolutamente positivo poi appunto c'è sempre un fungo e possono esserci mille variabili che magari proprio dove andiamo noi possano aumentare o diminuire la produzione ma sono sempre davanti sono ancora a casa non sono ancora uscito sono davanti al mio calendario ho un calendario particolarmente accurato quello con i disegnini della luna e quindi mi dice le fasi lunari io che sono tartufaio le devo guardare o no a queste fasi lunari allora nonostante il discorso luna o comunque sia il flusso della luna sugli organismi viventi sia una cosa particolarmente affascinante che mi è sempre interessato mi sono anche andato a informare ad oggi la scienza non non ha trovato nessun legame associativo tra calendario lunare e fase vegetativa dei tartufi quindi dal punto di vista scientifico di applicazione del metodo scientifico bisogna dire quello che è e non è stata dimostrata nessuna correlazione non significa che questa correlazione non ci sia però mi sento di dire che ad oggi insomma non è stata dimostrata quello che non è stato dimostrato di fatto non c'è insomma d'accordo quindi ho guardato il meteo dei mesi precedenti ho guardato non ho guardato la fase lunare perché non mi interessa guardo fuori dalla finestra ci sono condizioni meteo favorevoli per andare cioè nel senso ovvio a parte per il proprio comfort il comfort del cane esistono delle condizioni climatiche che favoriscono l'emanazione cioè tu mi dici è meglio il sole che un metro di neve oppure la ruggiada crea allora questo è allora la risposta è sì in base al periodo dell'anno e al tartufo che andiamo a cercare ci sono vari fattori che bisogna che bisogna seguire che bisogna andare a vedere allora di fatto il tartufo quando è maturo inizia ad emanare il proprio bouquet odorifero quindi tutti quanti i composti che conferiscono quel classico aroma tra cui il composto più caratteristico che dà quel profumo di idrocarburo che è il bismetiltiometano e quindi come tutti quanti gli aromi ha bisogno di un vettore per essere per essere trasportato quindi tutte le condizioni meteorologiche che aumentano la la possibilità di diffondersi dell'odore sono da favorire quindi mi sento di dire l'evaporazione una una lieve evaporazione del terreno favorisce il vettore odorifero quindi avere umidità che dal terreno si rilascia si rilascia nell'aria sicuramente aiuta piuttosto che avere una celata a meno 5 gradi che va comunque sia a stabilizzare ad abbattere insomma l'evaporazione del terreno quindi diciamo che se ci sta come può avvenire all'alba quando il sole inizia a battere sulle tartufaie e e quindi con con la radiazione solare far evaporare la brina la rucciata iniziare a riscaldare il terreno quella quell'evaporazione di sicuro favorisce l'emanazione e diciamo che va ad amplificare l'emanazione del tartufo quindi diciamo che a parità di emanazione ci sta un effetto di amplificazione quindi ovviamente là dove è concesso tra giorno e notte per la cerca proprio cioè per l'emanazione del tartufo consiglieresti comunque il giorno rispetto alla notte allora Nì nel senso che allora tutte quelle condizioni che favoriscono l'evaporazione dell'umidità nel terreno sono da prediligere è chiaro che ci stanno ragioni termiche per cui di notte il terreno va a rilasciare tutta l'energia termica accumulata durante il giorno e lo fa anche velocemente quindi le ore quelle più prossime al tramonto sono da preferirsi rispetto alle ore nel mattino più inoltrato non ci dimentichiamo che le ore della notte che vanno alle 4 alle 5 alle 6 del mattino sono le più fredde proprio perché il terreno ha rilasciato tutto quanto il suo calore quindi anche questo fenomeno del rilascio di umidità in atmosfera è ridotto quindi ricordiamo che se uno vuole vuole insomma sfruttare il discorso evaporazione le ore in cui il terreno ancora emana calore nei confronti dell'atmosfera sono le prime ore della notte quelle le prime dopo il tramonto ricordiamo che nella maggior parte delle regioni è vietato andare a tartuffi di notte quindi questo suggerimento comunque sia questa considerazione vale soltanto per quelli come Davide che risiedono i regioni in cui Piemonte Lombardia Emilia Romagna forse Liguria però non so se c'è qualche Ligure me lo dica se è permessa o no sicuramente Piemonte vabbè sì Lombardia Emilia Romagna in quelle regioni per cui per ragioni storiche si è voluto si è voluto concedere questo questo privilegio mi sento di suggerire a tutti quelli che comunque sia si spostano nei boschi di notte di andare con cautela perché comunque sia è pericoloso andare in un bosco di notte non per aggressioni di animali ma perché semplicemente uno può inciampare e farsi male quindi quello è anche di giorno è il pericolo più più grosso del bosco esatto o la vipera o il cinghiale rompersi la gamba e finire in qualche fosso dove non prende il telefono quello è il rischio più grosso del bosco o mio cucino che uno non è a mio cugino ma proprio mio cucino che sta nel soccorso alpino quindi tra fungaioli tartufai ne recuperano tanti quindi mi raccomando attenzione perché di notte con con la la capacità visiva molto ridotta si può rischiare quindi insomma state attenti voi che potete e cercate insomma di andare il più in sicurezza possibile tornando all'oggetto quindi allora ci dice che anche a Ravenna non è possibile andare di notte ok ragazzi sono in Piemonte non sono mai andato di notte in Emilia Romagna ricordi di studi anzi se quindi Emilia Romagna no o forse sì anche perché l'Emilia Romagna è strana è divisa in pianura e collina Emilia Romagna no che anche Andrea Mangozzi ce lo conferma va bene e quindi no è sicuro allora in Piemonte a questo punto chiedo anche in Lombardia perché magari mi sono confuso completamente stasera mi sembra che Lombardia si possa per il Piemonte ne sono certo stavi dicendo scusa Sergio no che appunto tornando a quella che era la domanda sì ci sono dei momenti in cui l'emanazione è migliore ma mi sento di dire che comunque sia il cane se fissato sul tartufo non è che gli cambia la vita avere un po' di vettore in più o in meno quindi sì ci sono sicuramente delle condizioni che favoriscono l'emanazione però non stiamo parlando di nulla di decisivo quindi che possa in un qualche modo andare a a fare veramente la differenza poi è chiaro ci stanno delle condizioni al contorno tale per cui per un pelo magari il cane lo sente ed è favorita la condizione di maggiore evaporazione e respirazione del terreno un pelo di meno non lo sente però parliamo di cose veramente al limite ecco ok c'è altro quesito che ci pone Alessandro Molinari qui ancora non sono uscito di casa però dice ho un cane giovane ci sono tartufaie più te la leggo che è più facile ci sono varietà di tartufo con cui è più facile scovare nuove tartufaie nel mio caso cane giovane condittore neofita e Alessandro ci sono tartufi in questo periodo poi appunto dipende dove sei però sicuramente magari piuttosto che ma no ti consiglierei il brumale e il bianchetto se sai indirizzarti un po' come piante simbionti e terreni sono più facili almeno quest'anno non lo so perché a bianchetto non sono ancora uscito perché ho la peste suina brumale è partito molto molto male non so adesso si sta riprendendo perché appunto è un po' che sono che sono chiuso chiuso in casa e non posso uscire però ti direi queste due soprattutto perché sono ti danno fanno la pastura cioè ce ne sono in piccoli spazi magari ne trovi tanti e quindi quello ti aiuta a fissare il cane invece Sergio come ci sono tartufi più facili per il cane? allora mi sento di dire di no perché il cane però questo insomma vado in un argomento che non padroneggio bene che più di Davide di Luigi e quant'altro allora per il cane una caciola un tuber excavatum quindi un tuber borki un tuber estivo un tuber magnatum sono essenzialmente la stessa cosa quindi il cane dico dal livello di intensità di odore lui discrimina e distingue chiaramente un'emanazione da un'altra però a livello di percezione quindi di sentire il tartufo per lui è quasi indifferente quello che è favorito è il tartufaglio inesperto quindi la lettura del cane nel sito allora sulla base di questo in in relazione all'abbondanza di tartufaglie all'abbondanza di prodotto negli anni negli anni favorevoli e anche al fatto che si manifesta con le classiche con i classici pianelli con le classiche bruciature del terreno quello che io considero il tartufo per antonomasia per il principiante o comunque sia per chi si avvicina al mondo del tartufo è il tartufo nero estivo le pasture se uno ha un po' di dimestichezza di montagna di collina le riconosce in tutti i libri di tartufi o comunque sia oggi come oggi andando in internet scrivendo pianelli pasture tartufaglie andando su google immagini ne trovate a bizzeffe quindi vi stampate in testa un po' come sono fatte andate in montagna con la consapevolezza che dove in quelle zone dove ci sono tanti pianelli c'è più probabilità che ci siano tartufi estivi e quindi la probabilità che il cane vada all'incontro è più alta piuttosto che andare a bianchetto o andare ad altri tipi di tartufi che non fanno che non fanno pianelli dico tartufo nero estivo perché negli anni in cui negli anni diciamo favorevoli che non sono stati lo scorso anno per esempio però negli anni favorevoli in tartufaio un po' meno alla mano si fanno belle quantità il cane si riesce a sbizzarrire a rinvenirli e si riescono a fare buone buone raccolte anche anche senza avere dei cani che sono diciamo fissatissimi o comunque diciamo cani di alto livello anche un cane che sta cominciando un cucciolo riesce andare a segno abbastanza con una probabilità più alta ecco mi sento di dire questo insomma trovo qualche nero pregiato e tantissimi escavati tanto ciao Gianluca Maioli ciao Giancarlo Nonledi Sandro Molinari salutato Luca Pacini Diego Vittorio Logelfo Laura Gironi buonasera a tutti quindi ho guardato tutte queste cose prendo il mio cane e mi accingo ad andare nel nel bosco prendiamo il bianchetto 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 dove decido di andare allora quando uno sceglie di andare a cercare un tartufo a meno che non abbia qualche animapia o qualche anziano che ha smesso per motivi diambulativi e che comunque sia non vuole che vadano per tutti i posti che frequentava ma questa cosa capita abbastanza di rato perché tanti se lo portano dietro nella tomba al segreto piuttosto per rivelarlo quindi a meno che non ci sia qualcuno che vi conduca in delle pasture o in dei posti non dico segreti ma comunque sia in dei posti in cui si trova il tartufo quello che uno deve fare spero di non dire una cosa che dà fastidio a nessuno però si deve mettere un pelo a studiare quindi bisogna imparare a conoscere le piante bisogna prendere i libri vedere che cos'è un pino che cos'è una bete che cos'è una roverella e prima di tutto uno deve andare nel bosco con la consapevolezza di quali piante ha davanti perché il tartufo come tanti altri funghi sia i pocei che i picei vivendo in simbiosi con delle piante superiori predilige dei terreni in cui nascono determinate essenze andando a parlare appunto del tartufo bianchetto tuber borchi vittadini di sicuro insomma ci stanno le piante che sono le piante simbionti che il bianchetto predilisce partiamo dalle conifere il pino domestico il pino taleppo fino ad arrivare alle latifoglie tra cui ricordiamo le roverelle comunque sia le piante del genere quercus sono tra quelle che stringono le migliori le migliori simbiosi con il tuber borchi quindi di base si va o in o in boschi boschi di di agrifoglie del genere pinus oppure in boschi del genere quercus in ostreti termofili eccomi stavo sistemando una cosa e no aspettate un attimo poi i miei doti di regia sono pessimi stavo cercando di fare una cosa ma non sono riuscito e se siete agli inizi e volete accelerare il vostro processo formativo oltre ai libri che sono importantissimi bisogna leggerne tanti guardate anche un bel sacco di video della Traffle Academy e se volete poi organizziamo anche degli incontri in presenza degli stage 19-20 febbraio tra l'altro se siete interessati ci sarà un prossimo stage sicuramente è rivolto al binomio uomo-cane ma c'è anche una grossa parte rivolta al conduttore in cui si vanno anche a vedere un po' tutte queste caratteristiche della cerca del tartufo appunto che sì c'è la parte canina ma c'è anche una parte fondamentale dell'essere umano che deve portare il cane sulla pastura Gaetano Faraci grazie per il contributo e buonasera Gianluca Canata CD buonasera anche a te Carlo Viotti ciao Asia ci fa una domanda vediamo un po' prima di continuare col con il nostro giro allora la quercia ha le ghiande e la roverella ha un frutto simile al riccio della castagna della castagna giusto per info no allora le querce quelle che comunemente vengono chiamate querce che sono la roverella è una quercia esatto che sono delle piante appartenenti al genere quercus in uno specifico la roverella è quercus pubescence hanno la fruttificazione delle piante del genere quercus sono appunto quelle che vengono comunemente chiamate ghiande nel caso specifico la roverella non ha una ghianda con diciamo il la parte che la racchiude diciamo all'inizio completamente la capocchia esatto dal punto di vista apicale diciamo con tutte quelle diciamo pelosità o villosità che sembra appunto riccio di castagna ma il ma è ma è liscio quello che praticamente dice Asia è il cerro che praticamente suggerivano anche il leccio Carlo Viotti no il leccio c'è la la ghianda più scura e comunque sia sempre simile a quelle della roverella diciamo come adesso non ricordo il nome del tecnico della della capocchetta della della ghianda però non è il leccio quella che ce l'ha con quelle villosità è il è il cerro che si chiama Quercus Cerris invece il leccio è Quercus Ilex ed ha e lo ha liscio comunque sia tutte le piante del genere Quercus hanno le fruttificazioni che sono ghiande poi non vorrei che fosse confusa la fruttificazione anche il faggio perché ha delle ha queste villosità che ricordano un pochettino un riccio ma in realtà un riccio non è va bene tra l'altro stavo pensando che appena Sergio va in vacanza sarebbe bellissimo riuscire oppure andiamo noi a trovare Sergio vediamo un po' sarebbe bellissimo organizzare una cosa come stiamo provando a farla stasera da casa proprio in in presenza sarebbe molto bello organizzare una bella passeggiata non vevo l'ora di trovare qualcuno che mi accompagna per le montagne insomma quindi molto molto volentieri sarebbe essere un'idea anzi fateci sapere qua che più gli fate pressione quindi si convince e ci organizziamo per 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 farla quindi ok come il meme che gira ultimamente non insistere mi avete già convinto Gianluca nata Gianluca nella lontana ipotesi che trovassi dei tartufi dalla cavatura alla mia vettura qual è il modo migliore per trasportarlo migliore e legale allora Gianluca qua siamo già arrivati che li abbiamo trovati noi li stavamo ancora cercando nella nostra nella nostra simulazione ma essendo la giornata dedicata alle domande e alle risposte rispondiamo immediatamente ne avevamo parlato proprio credo anche l'ultima volta di questa cosa che è interessante ma la ripetiamo volentieri ripetita allora il modo migliore chiaramente è quello di seguire la legge di fare una pulizia sommaria dell'ascocarpo che appunto è il tartufo di rimuovere la terra in eccesso e di conservarlo fin tanto che non si arriva al proprio domicilio in dei contenitori areati comunque sia non ermetici quello che può essere la cacciatora di un gilet di un gilet ad uso sportivo per la montagna per cacciatori o quelle che possono essere delle borse apposite areate ecco quello che mi sento di dire è che non c'è la necessità di avere dei cesti di vimini o dei contenitori proprio molto areati perché le asco spore del tartufo sono contenute nella galeva che è la polpa quindi l'imenoforo che è la parte che matura in cui maturano le asco spore in cui maturano gli aschi non viene volatilizzato quindi non si volatilizza come può essere quello di una vescia oppure l'imenoforo di un porcino l'imenoforo a tuboli a pori che poi a maturazione si aprono e lasciano cadere le spore nell'aria quello del tartufo insomma il tartufo la natura ha fatto sì che le spore rimanessero all'interno della polpa e poi la natura o con la marcescenza quindi con le larve di ditteri si andasse a diffondere nel terreno e poi nell'aria oppure con i predatori di tartufo quelli animali che consumano il tartufo quindi i vettori naturali si andasse a disperdere quindi di base una volta uno ha tolto il tartufo e lo porta a casa ha tolto all'ambiente le spore quindi non è mi sento di dire che le ragioni scientifiche del contenitore reato non è che siano poi così tanto così tanto legittime ecco però insomma la legge lo richiede noi che siamo dei bravi cittadini facciamo quello che ci impone la legge allora tra l'altro proprio sulla base di questo che sono anche dalle tue parti lavorative credo non domiciliari ho conosciuto i ragazzi di Lagotti e Tartufi del team Lagotti e Tartufi loro hanno fatto tanto me ne hanno mandata una e venerdì se tutto va bene non succedono altri accidenti strani e piaghe dovrei far uscire un video in cui ve la faccio vedere hanno fatto proprio una trisacca pensata per per il tartufo perché dicevano noi abbiamo bisogno di questa roba qua ma perché non proviamo a farne una loro sono molto bravi adesso stanno facendo anche un altro progetto in ballo che sta girando che si vede già qualche prima uscita che è la Lagotta questa museruola innovativa che stanno facendo e hanno fatto questa museruola proprio scusate questa trisacca che tra l'altro è una fattura ottima perché è fatta tutta in cordura quindi che non si attacca non si strappa e ha fatto le tasche principali quelle più più grosse proprio dedicate al tartufo con i già microforate proprio dedicate al tartufo invece il carniere è dietro perché poi comunque la trisacca nasce come strumento da caccia il carniere è dietro quindi la tascona già divisa in scompartimenti con dei ganci per attaccare le bottiglie ed è deve essere molto comoda purtroppo non posso andare nel bosco a provarla sappiate che io ogni dieci minuti vi ripeto le mie disgrazie però almeno che sono qua ho qualcuno con cui sfogarmi allora è venerdì venerdì dovrebbe uscire il video con loro poi faremo anche una diretta in cui vi inviterò qua sul canale Giancarlo Lolledi anche qua sempre lui vuole andare a Nero Pregiato invece e dice devo scegliere il bosco deve essere sempre bosco molto rado a volte può essere anche un po' più fitto il Nero Pregiato solitamente cerca terreni esposti e con molto scheletro quindi dove arriva del sole e e ci sia e sia drenante principalmente ma nel bosco un po' più fitto lo possiamo trovare e in che boschi allora Giancarlo nel bosco allora ripeto sempre che in micologia non esistono assoluti quindi può capitare di trovare anche un Nero Pregiato nel bosco fitto però di base da letteratura e anche secondo la mia esperienza tutte le volte che un bosco si va a chiudere determina la progressiva scomparsa e il tartufo Nero Pregiato infatti in tartuficoltura quello che si fa è di andare a fare delle potature di andare a tenere le tartufaglie sempre ben soleggiate e di andare a considerare per il Nero Pregiato dei sesti di impianto che siano comunque sia che permettano anche a piante di sbariati anni di avere un ottimo un ottimo insolamento un'ottima permeabilità delle radiazioni solari sul terreno sui pianelli quindi sul terreno limitrofo alle piante quindi tornando alla domanda non mi sento di escludere che possa capitare di trovare un Nero Pregiato in un bosco un po' più chiuso però di base no il bosco deve essere aperto deve essere soleggiato quindi non parliamo di bosco ma di radure di piante isolate e di piccoli agglomerati di piante in mezzo a campi o in mezzo diciamo a campi a pascoli quindi non in boschi non in boschi in macchie fitte ecco conosco delle faggete che danno tartufo faggete faggete chi lo scrive lo dici tu no dico io conosco delle faggete che danno Nero Pregiato sì e che adesso sì sono magari non nei punti più interni ma nel nel nei bordi intorno capita comunque sia il faggio non è una pianta con cui di base il Nero Pregiato stringe di solito micorrize quindi magari sono altre essenze insieme al faggio che è una faggeta poi magari capito c'è può essere una rover cioè infatti sul sul bordo all'interno no però quindi nonno è chiarissimo e tornando alle alle piante il Nero Pregiato almeno nel centro Italia comunque da letteratura predice la maggior parte le piante del genere Quercus quindi Roverella Quercus Pubescence il Leccio Quercus Ilex il Cerro e poi parliamo di Carpini Ostria Carpini Folia questi sono i boschi principali perché tra l'altro il Nero Pregiato essendo una specie come abbiamo già appena detto che predice l'insolazione va a stringere di fatto simbiosi con tutte quelle piante che si manifestano bene in terreni che hanno quelle caratteristiche insomma di termofili cioè sono specie abbastanza termofile che vanno a fare dei boschi dei boschi termofili di latifoglie quindi nonostante ci siano anche altre piante che in vitro è stato visto e dimostrato che stringano simbiosi poi in natura non si potranno mai palessare quelle simbiosi perché quella pianta con cui in vitro è stato visto che si è stretta la simbiosi cresce in habitat non ha un habitat che si sposa con quello del tartufo nero preciato allora non mi ricordo se ti ho ringraziato sono un po' rimbambito però meglio ringraziare due volte che non ringraziare quindi Alessandro Molinari ti ringrazio per lo sticker che ci hai mandato quindi per il contributo che hai mandato al canale grazie mille anche a te hai fatto un'ottima cosa se volete imitarlo non ci offendiamo anzi grazie torniamo allora il bosco di Nero vivo in provincia in provincia di Piacenza se vado a Brumale visto che ne trova poco e mi porto dietro qualche tartufa da destraumento rovino il cane per il Brumale Roverella e Roverella e Tiglio allora se tu ci seguissi con più attenzione o come magari sei appena arrivato quindi ti dico vai a vedere abbiamo fatto un sacco di video in cui ne parliamo assolutamente no se ti porti dietro il tartufo da destraumento non rovini il cane anzi rischi di rovinarlo se non te lo porti e fai parecchie uscite a vuoto il cane potrebbe rompersi le scatole e andarsi a girare su altri interessi che non sono il tartufo ma possono essere odori animali pensieri filosofici comunque il fatto che se porti fuori il cane ti porti dietro anche qualcosa da fargli trovare di continuo di tuo è una cosa assolutamente positiva un po' perché durante la cerca continui a canalizzare il cane un po' perché gli fai vivere un'esperienza positiva quindi per il cane il fatto di andare a risultato ricevere il premio le tue le tue lodi perché ha lavorato bene non fa nient'altro che andare a rinforzare il 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 cane quindi assolutamente non rovini il cane anzi vai a continuare la parte di addestramento soprattutto quest'anno che con i vari neri invernali c'è stata un po' di carenza poi dipende dalle tue parole dipende dove sei in provincia di Piacenza perché dove stanno io vi do questo aneddoto si chiama anche le quattro province che sono anche le quattro regioni perché dove proprio dove vivo io sono al confine con io sono in provincia di Alessandria ma sono proprio al confine con la provincia di Pavia Piacenza e Genova quindi quattro province e quattro regioni proprio nel punto dove sono io è il punto dove si toccano queste regioni quindi è facile che io possa sconfinare e Piacenza da dove sono io è quella un pelino più lontana ma sono praticamente confinante anche con quello parlo di strade poi invece proprio di se vai sui cucuzzoli delle montagne si toccano tutte Brumale Roverella e Tiglio cosa dici Sergio? Allora Roverella sì Tiglio non ricordo se è una pianta simbionte del Brumale però comunque sia sulla base la mia esperienza Roverella sì e anche tanto il nocciolo nei noccioleti il Brumale fa molto anche perché tra i tartufi neri invernali il Brumale è quello che predilice un pochettino di più l'umidità infatti si dice tra chi impianta tartufaie che quando si va a fare il sesto impianto soprattutto in quelle tartufaie che non vantano un'ottima esposizione parliamo di tartufaie nero preciato scusate ho sbagliato la premessa ho dimenticato la premessa in quelle tartufaie che uno va a impiantare che magari ci stanno le caratteristiche buone del terreno ma non godono un'esposizione diciamo eccellente a sud est di fare un sesto di impianto un po' meno povero di noccioli perché essendo una pianta cespugliosa tutti mi auguro che abbiano chiaro come i polloni che fa il nocciolo nei noccioleti tende a creare delle ampie zone d'ombra e c'è il rischio che la tartufaie nero preciato si diciamo imbastardisca detta in gergo tecnico a tuber brumale che per quanto sia un ottimo tartufo commestibile ha delle peculiarità organolettiche e un valore commerciale nettamente inferiori a quelle del nero preciato Asia due cerri cresciuti sopra ad un fossato molto soleggiato possibilità di bianco durante la stagione due cerri nati un fosso molto molto cioè molto soleggiato allora dipende da varie da varie da varie cose da vari fattori se è molto soleggiato tanto sole e tartufo bianco sono come il cane e il gatto adesso i cani e i gatti magari vivono insieme in pace sul divano però diciamo solitamente come figura retorica come figura retorica insomma concedetemela quindi ecco sole e tartufo bianco non vanno non vanno a braccetto quindi di sicuro se fossero stati in un fondo valle umido e ombroso sarebbe stato meglio però provaci se il terreno c'è magari delle volte ci sono delle micro variabili cioè se questo è un fosso con tanta acqua e la riva del fosso da nord magari capito non lo trovi di fianco al cerro ma nella parte in ombra della riva a contatto con l'acqua dove ci possono essere molto umidità potrebbe esserci comunque sì sostanzialmente se uno dovesse decidere se ce l'hai di fianco a casa un giro ma ce la fa nel senso se ce lo farei se ce l'hai di fianco 20 km magari scegli una zona un po' più cercare un posto magari un fondo valle un po' più ombroso con umidità cercare più una cosa del genere però se ce l'hai di fianco a casa vai a dare un'occhiata abbiamo superato abbondantemente la metà della diretta sempre così quando si inizia a chiacchierare poi il tempo il tempo vola e Sergio non cena o cena molto tardi comunque vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti al canale potete farlo subito a voi non costa niente basta cliccare sul pollicione sul pollicione anche se volete lasciare un like ma sulla scritta iscriviti e con la campanella potete anche decidere come attivare e disattivare le vostre notifiche questo aiuta molto la circolazione dei contenuti del canale tra l'altro lo dicevo prima mancano 5 iscritti arrivare a 5.000 quindi se c'è qualcuno che non è ancora iscritto clicchi lì e se arriviamo a 5.000 proprio in diretta organizzo un piccolo parties allora Paolo Grifoni ciao per il bianchetto nella pineta ci devono essere anche delle querce no no perché il bianchetto va in simbiosi con il pino col pino con varie come in generale tutti i tartuffi esistono le piante comari diciamo che la quercia è una pianta simbionte non è non è comare quindi non se può essere ci possono essere alcune pinete senza querce e trovare non sono necessarie diciamo dalle mie parti nelle pinete umide nei canaloni dove ci sono le quercette ci fa il tartufo bianco però perché ci sono le quercette e non è questo il caso del bianchetto insomma ecco no io ti dico dove sono io ad esempio ci sono pinete anche grandi ma all'interno della pineta qualche quercia c'è sempre perché comunque anche perché sono tutte la maggior parte sono pinete che sono state piantate è il rimboschimento è stato è il rimboschimento dove bianchetto ce n'è però anche poi ci sono anche altre essenze e sto parlando in montagna poi magari invece se vai su una pineta a bassa quota invece trovi solo pini però bianchetto c'è se è arrivato Dario Caricola nel raggio di un chilometro da casa mia ho 6 7 tartufaie impiantate questo aumenta la possibilità che anche nelle piante limitrofe o comunque non recintate ci siano tartufi allora il tartufo viaggia all'interno del terreno quindi se tu porti in un territorio spore tartufi sicuramente aiuti la diffusione del tartufo e in più ci sono i confini delle tartufaie adesso io sono una persona molto attenta e rispettosa se trovo un recinto non ci entro se trovo una tabella valida non ci entro però intorno alle tartufaie recintate si può girare comunque le radici capita spesso che fuori da un recinto si trovino i tartufi stai facendo una cosa cioè non stai rubando niente a nessuno sei fuori dal recinto non entri nella proprietà di nessuno però se questi tartufi crescono fuori credo tu li possa raccogliere senza nessun problema e comunque a parte questo che è una nota di colore se porti credo poi Sergio ci dice se porti tanto tartufo in una zona porti anche le spore dei tartufi che non raccogli di quelli che mangiano gli animali allora sì ci sono due cose da da tenere da tenere a mente che uno va impiantando tartufaia o in una zona dove già ci sono i tartufi quindi in questo caso girando intorno magari puoi trovare delle piante al di fuori dei limiti o del fondo chiuso o della tartufaia che sono micorrizzate naturalmente quindi non sono micorrizzate in vitro e poi impiantate e c'è un altro e poi c'è un altro modo un altro punto di vista che è quello che anche se in natura il tartufo non c'è quella specie impiantata non c'è però se la tartufaia c'è produce vuol dire che sia il terreno che il microclima sono favorevoli e per il discorso che diceva Davide la carica biologica del fungo può fare in modo che può fare in modo che si micorrizzi anche qualche pianta al di fuori al di fuori o al limite della proprietà quindi io un giro intorno a una tartufaia me lo farei facendo attenzione insomma a non discutere troppo col titolare del fondo perché quando uno vede che si aggira troppo intorno a una tartufaia comunque si è visto di buon occhio nonostante finché uno sta fuori non faccia niente però se io fossi il titolare della tartufaia mi vedessi due volte al giorno uno che fa il giro mangerei un po' la foglia che quando me ne vado quello prova a entrare ecco vabbè quello è un altro è un altro tipo d'azione ricordatevi che nella maggior parte delle tartufaie poi ci sono anche le fototrappole che magari non le vedete ma poi mi vengono sconare il citofono allora io devo dare devo dare dei suggerimenti e comunque siano indirizzi in un comportamento conciliante ecco quindi che non che non porti allo scontro poi è chiaro ripeto uno se batta tartufi solo intorno a tartufaia coltiale non fa niente di male purché insomma vabbè però un conto è andare di fianco a una tartufaia ad esempio io ci sono c'ho delle tartufaie in cui lungo il sentiero ci sono dei recinti e di lì cioè per andare a tartufaia per andare a fare la passeggiata o per andare a casa o per andare al tuo campo passi di lì e passi di fianco alla tartufaia ci passo col cane se il cane ne cava uno di fianco fuori dal recinto ragazzi cioè nel senso non è che certo andare a posta tutti i giorni in effetti crea poi quello stato d'animo no no ma allora io è da qualche anno che vado a tartufo quando dico le cose è perché sono situazioni che già ho vissuto una volta sono stato preso a male parole da un signore anziano che perché stavo in una tartufaia di nero preciato che era a fianco a dei pianelli con delle tabelle non valide attaccate sul tronco in cui io per proprio per un fatto di correttezza e di rispetto non ho fatto cioè con il cane al quinsaio ho fatto attenzione a non andare su quei pianelli stavo su quello che non dove non c'era la tabella e sono comunque stavo preso a male parole nonostante per un fatto insomma proprio prettamente di validità della segnalazione avrei potuto comunque sia cercare anche nelle tartufaie tra virgolette tabellate perché le tabelle non erano in regola quindi purtroppo ricordiamo anche questo cioè che le le tabelle hanno tutta una serie di regole a cui di innanzitutto di fattura e validità cioè nel senso che non è che uno si sveglia c'è un terreno e può dire qua non entra nessuno bisogna fare un procedimento richiedere che venga riconosciuta la tartufaia va deve essere adesso lo so la regione credo che dà l'autorizzazione a questa cosa quindi tu poi puoi fare delle tabelle che hanno comunque una data di scadenza perché appunto le tartufaie non è che riconoscono il fatto che il terreno è tuo e nessuno ci può entrare oppure puoi chiedere di recintare ma recintare i boschi è tutta un'altra questione necessita anche lì di grosse autorizzazioni perché appunto per questioni anche faunistiche non è sempre possibile farlo però le tartufaie comunque almeno quanto dovrebbe così come dovrebbe essere si chiamano tartufaie controllate controllate sono quelle che trovi tabellate significa che teoricamente il proprietario di quel fondo di quella concessione ci lavora anche sopra quindi se una tartufaia è davvero una tartufaia controllata vuol dire che probabilmente se ci sono ancora i tartufi in quel fondo in grossa quantità dovrebbe essere dato dal fatto che il proprietario pianta delle piante micorizzate tiene pulito il bosco fa tutta una serie di azioni di cura del fondo che fa sì che gli danno la possibilità di avere una tartufaia che si chiama controllata poi ci sono le coltivate che invece sono quando tu hai un terreno e ci pianti le piante e quello è un altro ancora tipo poi ci sono le tartufaie naturali su cui la cerca è libera quindi delle volte nel senso uno lo vede anche come la privazione degli spazi ma delle altre volte c'è gente che ci lavora tante giornate per far sì che una tartufaia sia produttiva anche se poi poi passando vedete la tabella il bosco però magari non è solo una belleità di chi ha messo la tabella ma magari appunto c'è anche del lavoro dell'attività del reddit cioè poi un suggerimento che voglio dare a tutti i tartufai o gli aspiranti tali andando nei boschi a tartufi o per funghi andare avanti sempre con l'educazione anche a volte passando magari da remissivi perché uno non sa mai quanto una persona esasperata adesso mi viene in mente quando uno va a funghi a funghi porcini nei castagneti coltivati nel periodo delle castagne i castagnai sono disperati perché tutti quelli che vanno per funghi rubano le castagne un sacchettino a testa o la maggioranza adesso sfido io uno che vede una bella castagna pensa ma che male faccio una castagna magari ci stanno ci passano 50 porcinari in un bosco di un ettaro che quello ha falciato tolto tolto le erbe aperto i ricci fatto tutto e magari 3-4 quintali di castagne gli si riportano via i funghioli la domenica capito che quella è una fonte di reddito nel terreno suo che lavora tu entri quello ti prende a male parole la prima cosa è dire non ho fatto niente di male però andare avanti sempre con l'educazione uno anche se non è tenuto fa vedere il cestino fa vedere il sacco che non ha rubato niente poi anche le persone più dure si ammorbidiscono i pronti al fatto che non ha fatto niente quindi cercare sempre di essere ragionevoli e non andare allo scontro perché di base insomma le persone possono essere esasperate dai comportamenti della gente quindi è uno degli altri rischi residui del bosco esatto quindi vi direi insomma di cercare di di evitare tutti quei comportamenti che possono in generale anche dei sospetti ecco comunque si andare avanti in maniera pacifica perché uno sta facendo informarsi bene perché appunto io mi sono trasferito dalla città al 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 mezzo alla alla selva totale e sinceramente quando sono quando arrivai è tutta una serie di cose cioè per quanto poi sono sempre stato nel bosco sempre quando non ci vivi nei posti non capisci neanche le piccole economie delle persone e le attenzioni delle volte uno non fa delle cose con cattività come appunto vedo la castagna per terra vado a pensare che quello è un castagno magari poi questa è una stupidata però ci sono tante cose dalla la catasta di legna ci sono lo schiacciare l'erba di quello che la deve andare a tagliare il giorno dopo insomma è tutta una parte di cultura e si apprende anche entrando in relazione con le persone poi che vivono che vivono quelle realtà poi si è chiaro essere ben disposti non vuol dire essere essere stupidi o cioè di fronte a una persona maleducata uno lo fa presente poi insomma se sta nella ragione fa quello che vuole non è che però insomma ecco il suggerimento che posso dare a tutti è di essere ragionevoli e di non andare a cercare lo scontro perché c'è uno c'è soltanto a rimetterci per la passione uno va nei boschi per rilassarsi per stare bene in armonia è inutile andare a cercare lo scontro e andarsela a cercare ecco Dario Caricola grazie per il contributo grazie mille dice oddio io non proverei mai a entrare in un recinto però ho capito Evolo Marchion ecco questa qui allora sono nel bosco continuiamo la nostra prendendo la nostra camminata sta andando a Brumale lui chiede se il Brumale fa la bruciata come gli altri neri io ti direi in generale ci sono bruciate differenti ci sono neri che non le fanno neri che le fanno ci sono differenti bruciate a seconda del tipo di tartufo sì sì è chiaro allora i tartufi a peridio nero più che tendono a con il loro ciclo biologico a rilasciare le sostanze tossiche per le piante erbacee le due specie che vanno a inibire di più la la formazione di piante erbacee sono il tartufo nero estivo e il tartufo nero preciato quindi quelle che vanno a formare dei pianelli più marcati ed evidenti ci sono anche gli altri tartufi neri comunque si hanno questa caratteristica in forma molto più blanda quindi quello che mi sento di dire in merito al tartufo brumale è che i pianelli sono molto evanescenti e spesso non si manifestano neppure ma poi c'è l'altra cosa anche che spesso tartufi come il brumale o l'uncinato crescono anche in situazioni dove non è possibile fare il pianello perché c'è talmente tanto humus non decompo quindi foglie secche soprattutto nella stagione in cui li vai a cercare che poi rimangono e già solo quelle non permettono di crescere l'erba tipo dalle mie parti sull'estivo puoi vedere dei pianelli perché magari sei ai bordi del bosco su dei campi allora lì qualcosa si vede ma se fai affidamento sul pianello hai voglia a cavare un tartufo perché il fondo il sottobosco di non cioè se vai appunto su quei tipi di tartufi ma non 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 lo vedi proprio poi c'è un'altra cosa queste sostanze che vanno a nibire la produzione scusate vanno a nibire la nascita di piante erbace vanno a formare tanto più il pianello quanto meno vengono lavate le precipitazioni quindi se la tartufaia è bella in piano in cui praticamente non c'è l'acqua che che drena non ha una forte pendenza che lava quindi che il terreno viene molto lavato il pianello si forma in nella stessa condizione in terreni molto scoscesi in cui l'acqua tende a lavare molto il pianello si forma meno quindi diciamo anche il discorso pianelli in natura non è non è non è sempre scontato che si formino i pianelli neanche per il tartufo nero preciato e neanche per il tartufo nero estivo ho un ricordo di una tartufaia che purtroppo ormai è morta che ci andavo da ragazzino stava a fianco alla tartufaia di un coltivata di un amico di mio padre in un oliveto abbandonato e sotto un olivo c'era una tartufaia di tartufo nero preciato che molto probabilmente la micorrizza era fatta da dei cisti rossi che si riproducevano naturalmente lì da parecchio tempo e sotto questo olivo non c'era il segno di nessuna bruciatura c'era dell'erba e si trovano dei tartufini ripreciati favolosi pezzature fantastiche poi purtroppo da una decina d'anni è morta però insomma mi sono tolto belle soddisfazioni ok Carlo Viotti dice potremmo farci una puntata argomento delicato sulla questione aree tabellate terreni coltivati recintati eh sì potrebbe essere interessante andare a approfondire l'argomento non sono un esperto di diritto forestale però sì possiamo magari ne troviamo ne troviamo uno sì 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 ne ho uno ne ho uno da coinvolgere sì potrebbe essere un'idea l'Asia ho la zia materna che ha il marito che va a tartufi ma non riceve aiuto nemmeno da loro Asia vai il giorno prima ti nascondi nel baule dello zio quando parte stai lì muta muta col telefono in mano e ti guardi su google maps tutto il tragitto dove si ferma così poi se hai la fortuna che lo zio non ti vede non ti trova nel baule o non prende troppe buche poi avrai tutto il tuo andrea dal corso scusate a ritardo benvenuto stiamo andando verso la fine non ci sono domande per fortuna allora come si fanno a trovare tartufaie coltivate dove poter andare pagando io in Toscana non ne trovo Giancarlo ci sono delle associazioni di tartufaie che fanno questo io non le conosco tutte e ti dico quelli che ho sentito io che hanno provato non si sono trovati tanto bene per mille ragioni perché spesso non ci sono tante tartufaie chi vuole farlo sono tante persone quindi sono molto sfruttate in Toscana non lo so però prova a guardare se c'è l'associazione di tartufaie della tua provincia o della tua zona o della tua città e che magari qualcuno invece ti fanno pagare una quota associativa e poi hanno magari dei posti dove puoi andare se no appena finisce la festa e sui mi viene a trovare e io organizzo anche uscite in natural anzi lo dico a tutti così se volete sapevatevelo oltre allo stage che faremo il 19 e il 20 poi solitamente quotidianamente organizzo anche incontri individuali e uscite in naturale tranne in questo periodo che non posso uscire va bene va bene va bene Sergio la mia gita virtuale nel bosco non è arrivata in fondo ma siamo rimasti nel bosco era un po' questo lo scopo della 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 serata quindi magari faremo una parte due in cui continuerò la mia gita e cercherò di andare a non avevo neanche tirato ancora fuori i cani dal trasportino vabbè vabbè per oggi rimangono lì grazie Sergio grazie a voi per seguirci grazie Davide un saluto a tutti buonanotte e buon appetito a chi come Sergio non ha ancora mangiato ciao 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 a tutti ciao